Riparte dalle porte chiuse del Proto la terza stagione in Serie D della CR Messina. A Troina impianto tabù nei due precedenti recenti, Cazzaroschi era un 3-5-1-1 con Crucitti a supporto di Siclari, ma deve fare a meno di San Pietro, sostituito in mezzo al campo da Bossa. In difesa c'è Ungaro al posto di Forte. La gara si accende dopo dieci minuti di studio, con la prima occasione sui piedi di Fernandes Cipolla, il cui Mancino è bloccato a terra da Avella. Risponde il Messina con una palla in verticale di Saverino per Crucitti, che Serenari ferma in uscita. Ancora Fernandes Cipolla pericoloso al quindicesimo con un destro di prima intenzione sul lancio di Indelicato, che Avella respinge in sicurezza. Portiere bianco scudato protagonista anche sullo stesso Indelicato, che sfrutta lo spazio a sinistra e sceglie la soluzione sul primo palo, esaltando il senso della posizione del portierino ex Matelica. I ritmi si abbassano, le azioni latitano e per annotare il primo e vero unico lampo del Messina bisogna attendere il trentacinquesimo con un traversone di fracapane spizzato da Bossa, che non trova la correzione vincente di Siclari. Risponde il Troina al trentanovesimo con una punizione da posizione defilata di Saba, che termina di poco a lato. Primo tempo bloccato e senza reti, Troina in controllo e Messina che fatica oltremodo nel proporre una manovra degna di nota. Subito un tentativo di Ibra Bamba in apertura di ripresa, palla sul fondo, il copione della gara non cambia, Messina è impalpabile anche quando Cazzarò aumenta il peso dell'attacco mandando in campo Coralli per Bossa. Al cinquantottesimo Camaccio alza uno strano pallone su cui si avventa Fernandez Cipolla, che salta anche Avella, ma si allunga la sfera e l'azione sfuma. Locali padroni del campo, Avella è miracoloso su Dacunè, mentre Ibra Bamba calcia alto con la porta vuota. Messina è inesistente in fase di proposizione e al settantunesimo il Troina trova il meritato vantaggio con lo scatenato Fernandez Cipolla, che sorprende Ungaro su cross di Saba, anticipa Avella e manda in rete l'uno a zero. Sono finite le cartucce in panchina per Cazzarò, che pesca gli under Nardelli e De Meio, ma il Messina non imbastisce gioco e lascia l'incombenza e gli sbilenchi lanci dei difensori centrali. I pericoli per Serenari sono pari a zero e al novantaquattresimo in contropiede Palermo fissa il raddoppio ribadendo in rete un miracolo di Avella sul suo stesso tiro. Il 2 a zero sancisce la terza sconfitta all'esordio negli ultimi tre campionati di Serie D per il Messina, che deve subito cambiare registro per non rischiare di gettare alle ortiche l'ennesimo campionato.